Buongiorno i miei amici, sono Andrea, vi ho visto a tutti i tronk shows in ultimi anni a Victor Dash of Old Town, come da Lubium, Luigi Bianchi Mantova, questa è la nostra fabbrica, un po' di previsione del nostro showroom, la mia intenzione è invitare a tutti a tutti i nostri tronk show, che sarà il prossimo settembre, settembre e settembre, come sempre vi mostrerò le migliori fabbriche, le migliori nuove seleccioni, le nuove fassioni e le nuove trendi dell'italiano stile, per favore, venite, spero di vedere molto molto pronto e come sempre sarà un evento molto successivo, molto molto amico in Dash of Old Town, numero uno di made to measure. Ciao, i miei amici!